Le compagnie portuali avevano l'esclusiva del lavoro, la riserva, andavano a lavorare al pontile della fundivia della Fornicoc, in questo caso parliamo della Fornicoc, però nella legge del codice della marina mercantile, nel regolamento del codice, era previsto che alcuni operatori portuali, in quel caso la Fornicoc, che avevano degli impianti fissi dove i portuali andavano a bordo della nave per pulire le stive del carbone e quant'altro, diventassero autosufficienti, si chiamava autonomia funzionale, quindi il ministro della marina mercantile aveva concesso l'autonomia funzionale alle Fornicoc, il senso che voleva dire, non hai più bisogno di chiamare i portuali, malgrado la riserva che c'è scritto nel codice, puoi fare quello che cavolo vuoi e utilizzare chi li tieni opportuno, perché sai, un'autonomia funzionale, esisteva già questa condizione in determinati posti, anche per quanto riguarda petroliferi, aveva più senso però per prodotti petrolifici questo concetto, mentre invece lì perché si diceva sei autosufficienti, basta che attacchi una manichetta, non c'è bisogno di una squadra di lavoratori, nel qual caso mentre vissi alla Fornicoc non aveva questa ragione, perché si andava a bordo, ci andavano anche diverse persone, tu ho tre squadre di 10 persone per pulire le stive, quindi non c'era questa, però lì avevano abusato in questo modo, questo era stato il decreto dell'autonomia funzionale, conseguentemente arrivato a questo punto c'è stata una grande manifestazione rivolta a Savona, devo dire che il sindacato che insieme alla compagnia aveva organizzato questo, ha mobilitato anche altri lavoratori, i dirigenti avevano detto andiamo alla Fornicoc e vogliamo parlare di questo per spiegare le ragioni che è sbagliato, perché non sono nelle condizioni dell'autonomia funzionale di quello che descrivevo prima. Tutti i portuali, eravamo più di 1000 e rotti quella volta lì, siamo partiti da Savona e siamo venuti avanti lungo la strada, fino a vado per strada, con cartelli, con striscioni, con megafoni e quant'altro. Quando siamo arrivati all'imbocco, a metà di vado, entrando dentro, quasi di fronte alla piazza di vado, ci siamo trovati schierati di fronte, la polizia, il battaglione Celere, sdraiati per terra con le mitragliatrici puntate e nella via a fianco i carabinieri pronti in sommossa. È stato un brutto momento, hanno preteso di dialogare con i capi della polizia, noi volevamo avere un incontro con la Fornicoc per poter spiegare le nostre ragioni e che recidessero da quella posizione. Morale alla favola, l'incontro c'è stato soltanto parzialmente, noi non siamo, c'erano i portuali che volevano andare avanti e sfondare il cordone, la gente, i dirigenti hanno convinto la gente a stare fermi, a pretendere comunque, è venuto il Comune, il Consiglio Comunale che era d'accordo con noi che per ora aveva tutti questi casi, comunque una specie di incontro c'è stato. Poi diciamo che è stato trovato, non dico un accordo in quel momento, ma un attimo di sospensione dell'atteggiamento del decreto e allora siamo ritornati in porto e poi è andata avanti la cosa, alla fine si è riuscita a trovare un modus vivendi per andare a lavorare anche alla Fornicoc. I lavoratori portuali delle compagnie avevano come gli altri lavoratori certi istituti di cui la tredicesima e la quattordicesima mensilità, quando si andava a lavorare si pagava anche il costo del lavoratore portuale e poi gli altri salari differiti. Questi salari differiti andavano però a finire per pagare la tredicesima latifica dei portuali ai fondi centrali, ricordo che chi gestiva tutti i salari differiti delle compagnie portuali, non di Savona ma di tutta Italia, erano i fondi centrali che erano gestiti dal Ministero della Marina Mercantile, da alcuni rappresentanti dell'utenza e da alcuni rappresentanti dei sindacati. Qua venivano gestiti tutti i salari di malattia, infortunio, ferie, festività, tredicesima, quattordicesima, integrazione e pensione, tutto quello che partiva dal locale andava a finire là, che poi ritornava sotto forma di benefici, dal punto di vista se venivi ammalato, se c'era la tredicesima, quattordicesima. Quell'anno c'era stato un po' di crisi, alcuni posti, fortunatamente non a Savona, il Ministero e i fondi centrali hanno bloccato l'erogazione dei salari differiti ai lavoratori portuali per quanto riguardava la tredicesima e quattordicesima mensilità. Non vi aspetta, non ci sono soldi, non ve la diamo. I portuali dicevano che sono andato a lavorare, ho fatto la tariffa, ho sporcato la merce, la parte di differenziale che doveva restare a me, nella mia compagnia, mentre invece l'assorbite voi per legge, viene a finire qua e adesso non mi date i soldi indietro che sono miei. Cerco di spiegare brevemente qual era il concetto e il ragionamento. Ed è nata una discussione piuttosto accesa, poi abbiamo cominciato il blocco. Non solo a Savona, in tutta Italia si è cominciato il blocco dei porti, c'era il tentativo di far capire anche agli altri che noi stavamo vivendo e gestendo una cosa che avevamo pagato e adesso non ci veniva restituita perché il ministero della maniera mercantile si era appropriato di alcuni fondi, dei fondi centrali per fare altre operazioni e non c'erano più i soldi per dare i soldi ai lavoratori delle compagnie portuali. Allora ero segretario del sindacato, il tentativo era di far ragionare i portuali che bisognava bloccare il porto, che bisognava giustamente, dico per certi periodi di tempo di bloccare il porto, che dovevamo rivendicare giustamente il nostro diritto e che avevamo tutta una serie di altri diritti. Che però c'erano anche i camionisti che erano venuti lì, che erano rimasti bloccati in porto, non quelli fuori, che ogni tanto dovevamo lasciarli uscire perché se anche non venivano caricati, magari aveva la casa, la famiglia doveva ritornare, doveva portarsi via il camion. Il periodo più difficile è stato quello, da una parte di intransigenza, di dire vogliono portare via il mio e io blocco tutto, dall'altra la discussione per far ragionare i lavoratori che bisognava giustamente continuare a bloccare perché siamo andati in sette giorni, ma ogni tanto bisognava dare un po' di sfogo a quelli che erano rimasti bloccati all'interno del porto, perché li abbiamo bloccati di botto e abbiamo fatto le cose. Questo è stato uno dei periodi piuttosto difficili di gestione, ma poi siamo riusciti a vincere perché il Ministero ha riconosciuto il danno e ci ha dato la tredicesima. Se mi è permesso ne voglio citare ancora un'altra per i portuali, perché quella era di carattere economica. L'impegno internazionale dei lavoratori portuali. Ricordate il periodo di Pinochet nel Cile, le navi soprattutto del Cile portavano rame, sbarcavano in Italia, sbarcavano in modo particolare a Genova, a Livorno, a Savona e alcuni altri porti, il traffico si concentrava più in quelli. I portuali di Savona, di Genova, di Livorno e quant'altro, hanno boicottato le navi cilene che venivano a smarcare il rame, non le scaricavano, perdevano la giornata quando venivano chiamati e non andavano a lavorare. Abbiamo bloccato per tre giorni i porti da questo punto di vista come solidarietà nei confronti del popolo cileno che era stato colpito dal gol. Aveva anche dei sentimenti, aveva una concezione internazionale di che gli operai si devono aiutare, questo era il concetto e quel popolo deve essere aiutato e questa è stata una cosa secondo me molto positiva.